La favola della buonanotte. L'omino della pioggia di Gianni Rodari. Io conosco l'omino della pioggia. È un omino leggero leggero che abita sulle nuvole. Salta da una nuvola all'altra senza sfondarne il pavimento soffice e vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubinetti. Quando l'omino apre i rubinetti le nuvole lasciano cadere l'acqua sulla terra. Quando l'omino chiude i rubinetti la pioggia cessa. Ha un grande affare l'omino della pioggia sempre ad aprire e chiudere i rubinetti e qualche volta si stanca. Quando è stanco stanchissimo si sdraia su una nuvoletta e si addormenta. Dorme, dorme, dorme e intanto ha lasciato aperti tutti i rubinetti e continua a piovere. Per fortuna un colpo di tuono più forte di tutti gli altri lo sveglia. L'omino salta su ed esclama povero me chissà quanto tempo dormito. Guarda in basso e vede i paesi, le montagne e i campi grigi, tristi sotto l'acqua che continua a cadere. Allora comincia a saltare da una nuvola all'altra chiudendo in fretta tutti i rubinetti. Così la pioggia cessa. Le nuvole si lasciano spingere lontano dal vento e muovendosi cullano dolcemente l'omino della pioggia che così si addormenta di nuovo. Quando si sveglia esclama povero me chissà quanto tempo dormito. Guarda in basso e vede la terra secca e fumante senza una goccia d'acqua. Allora corre in giro per il cielo ad aprire tutti i rubinetti e va sempre avanti così. Buonanotte bambini.